In questo video vi faccio vedere come funziona il cambio di una gilera a 150. Allora, vediamo qui il cuscinetto di banco dove ci va la biella. Dalla biella, dall'ingranaggio della biella esce appunto un dente, una dentatura, che va a lavorare su questo ingranaggio. Questo ingranaggio è quello che dà tutto il movimento poi alla trasmissione. Vedete? Vediamo come funziona. La trasmissione di cosa è composta? È composta essenzialmente nel cambio dove vedremo tutti gli ingranaggi e da questa altra parte del cambio, l'altro perno. Allora, innanzitutto vediamo come funzionano gli ingranaggi. Allora abbiamo un ingranaggio che è questo, che fa lavorare la prima marcia e seconda marcia e l'altro ingranaggio che è questo, che fa lavorare la terza marcia e quarta marcia. Come lavorano? Lavorano attraverso queste due bandierine che vediamo qui. Questa bandierina aziona questo ingranaggio che abbiamo appena visto, che fa fare la marcia 1 e la marcia 2. Andando in su fa la marcia 1 perché si innesta in questo ingranaggio qui, che è la prima. rimanendo così è in folle, scendendo di un dente va ad innestarsi invece nella marcia seconda. L'altra bandierina invece fa la marcia terza e la marcia quarta. Allora, come? Andando, adesso vediamo, all'interno ci sono, non so se si riescono a vedere, nella quarta marcia, insomma ci sono degli innesti qui sotto. Vedete questi qua? sono degli innesti. Vediamo se, come funziona il cambio, selezionando proprio le marce. Allora, vedendo com'è in questo modo adesso, è in folle. Perché è in folle? Perché come detto, questo qui continua a dare moto, perché ha la biella che gira, continua a dare moto nell'albero a questa qui, che è fissa, il quale trasmette a questo alberino tutto il movimento. Per cui quando gira questo, l'alberino continua a muoversi. Sono solo questi che o si innestano o si disinnestano, dipende se sei in folle o dipende da che marcia riusciamo ad avere. Ok? Dunque, movimento della biella, che dà movimento a questo ingranaggio, il quale trasmette a questo ingranaggio, il quale a sua volta trasmette a tutto questo alberino. Tutto questo alberino continua a muoversi sempre, quando la moto è accesa. Ok? Sono solo questi che si innestano o disinnestano in base alla marcia che mettiamo con questa bandierina, che abbiamo detto che fa lavorare la prima e la seconda, e con questa bandierina che fa lavorare la terza e la quarta. Ok? Dunque, vediamo come girano adesso gli alberini. Vedete? Adesso facciamo un funzionamento della biella. Vedete che l'albero, dove viene innestato qui il pignone, è fermo. Dunque vuol dire che la motocicletta è in folle. Ed è in folle perché, appunto, questo ingranaggio non è innestato da nessuna parte, ma vedete che tutti gli ingranaggi scorrono. Questo scorre, questo scorre, perché nelle loro dentature non sono innestati. Dunque, nessun ingranaggio è innestato, ma scorrono sull'albero. Ok? L'albero, dove ci va il pignone, vedete che, pur girando la biella, adesso facciamo ovviamente una simulazione, l'albero è fermo. Adesso andiamo a vedere come si innestano le varie marce. Proviamo ora ad innestare le varie marce. Inseriamo la marcia prima. Vedete? Questa dentatura, che è data da quell'ingranaggio che abbiamo detto, mosso da questa bandierina, che abbiamo detto che fa la marcia 1 e 2, ha alzato questo ingranaggio, che è andato ad innestarsi in questo, attraverso questi perni. Ok? Dunque, se noi adesso muoviamo la nostra biella, vedete che l'albero motore gira. E gira in prima marcia. Perché questo ingranaggio si è innestato nella prima. Vedete? Questo abbiamo detto che continua a girare sempre. Questo adesso si è fissato all'albero. Dunque, l'albero girerà e è in prima marcia. Ok? Proviamo a vederlo anche dall'altro lato, che forse si vede un po' di più. Eccoci qua. Vedete? Muoviamo la marcia. E dunque è innestata questo con questo. Perché qui ci sono i perni della prima. Proviamo ad andare in folle. Siamo scesi in folle. Dunque, vedete che i perni si sono disinstallati dalla cosa. Per cui se noi giriamo, la biella continua a girare e siamo in folle. Perché abbiamo visto che questo qui, che fa da prima andando in su e incastrandosi, o da seconda quando scenderà, in questo caso è libero. Vedete? Per cui questo che viene sempre, che abbiamo detto che ruota sempre, non va ad ingranarsi con questo. E dunque il nostro albero motore, pignone, è fermo. Ok? Proviamo ad andare in seconda marcia. Vediamo cosa succede. Vedete? Rifacciamo. Così a folle. Così scendiamo. Dente con dente. E dunque, se la nostra biella gira, vedete che il nostro albero motore, il nostro pignone, gira. Ok? Dunque, qui potete vedere quei perni famosi che, con questa bandierina che alza il perno, vedete? Va sopra e si incastrano in questi buchi, dando movimento alla prima. Adesso invece è sceso e si è incastrato il perno, l'ingranaggio, è andato direttamente dente a dente con la seconda. Ok? Proviamo a cambiare ancora marcia. Adesso, andando in terza e in quarta, questo, dall'alberino sotto, la bandierina sotto, inizierà a lavorare. Andiamo a vedere. Dunque, avete visto? Questo è risalito e si è riportato in una posizione di folle, perché non tocca questo ingranaggio qua, se vedete che non lo tocca. E non è innestato in quello sopra. Ha iniziato a lavorare questo, cioè è venuto su questo. Ritorniamo, se volete, in seconda e vediamo cosa succede. Questa, vedete? Seconda, terza, terza, sale quella sotto, l'ingranaggio sotto, che va a lavorare con questo pignone. Abbiamo detto che questo gira sempre e dunque anche il nostro albero girerà. Andiamo a vedere l'ultima, che è la quarta. Vedete qui sotto? Ci sono delle tacche. Questo scenderà e andrà a incastrarsi in queste tacche, dando il movimento all'ultimo ingranaggio, cioè quello della quarta. Esatto. Vedete? Ecco, ingranaggio con ingranaggio, per cui la nostra biella gira e il nostro albero motore, vedete, il nostro pignone gira. Ok? Ok, torniamo indietro, scaliamo, andiamo in terza, torna su l'ingranaggio della terza, ovviamente senza moto continuo, non è detto che si incastrino perfettamente. Tornato su, andiamo in seconda, dunque si disattiva quello lì e adesso andiamo in seconda. Seconda, avete visto? Tornato il pignone della seconda con seconda e siamo andati in folle. Folle, dunque questo gira. Folle, questo gira ma l'albero rimane fermo. Ok? Prima, tornano su a incastrarsi questi. Questi perni tornano ad incastrarsi. Questo è il funzionamento del cambio della gira 150. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale che vi faccio vedere altri piccoli trucchi del mestiere.